lusione forse mi hanno ucciso il ciccione no fight fight morto uno si si sono a destra potremmo passare in sta casa però raga si si vai 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 ora saliamo su di sopra si può passare eh sono nella casa di fianco potremmo passare qua dietro uno è morto qua sopra hanno fatto scambio pari in due io ho ucciso uno lì sopra ragazzi c'è qualcuno che da noi mi sa dici io li sento qua eh no lo sento lo sento non è che dico c'è lo sento è da me sale la scala morto bene ho uno sul tetto ok è di qua forse ora ma come non è morto è stato rianimato morto la sorella strana ha ucciso cioè ho colpito non lo so io ne ho ucciso un altro qua sopra forse forse no madonna raga si è morta la sorella strana qua con la bomba uno arriva altra gente uno sul tetto così di sicuro che ce n'è ancora è uno sopra sto tetto raga si l'ho visto c'ha il wifi il silenziato ci sono le taglie sotto ce le prendiamo sì anche perché sta arrivando il quarto team comunque è morto quello sul tetto headshot uh c'ha il winfield quello nuovo leggendario perché già delle cosi non li posso fare nel terzo allora aspetta io vado a prendere la taglia poi li vengo a lottare aia allora raccontiamo i cadaveri 1 2 3 4 qui ce n'è quattro mancano due che mancano cinque con questo qui sono morti tutti i ragazzi penso facciano uno con cinque e sei ok ok li trovi tutti su di lì adesso sopra comunque ho sentito uno springfield eh sta arrivando un team arrivano arrivano sento i cani allora aspetta non li vedo ancora comunque però qua c'è uno spazio gli altri sono sul tetto qua yep no qui qui dentro c'è nessuno sul tetto non lo so mi pare forse uno ma intanto fatte questi tre ma non ho lanciato una bomba con certina quello sotto l'avete fatto? oh qui che c'è? io uno ne ho fatto sotto un totalello quattro punti da io qua li ho fatti tutti e due questi qua li ho fatti tutti e due io io no questo sotto l'avete fatto? questo io no questo io l'ho fatto questo non posso più aiutare nessuno cos'hai preso? scusa punti dove? eh c'era una cosetta di muri oh raga io ancora non li vedo questi ha dato quattro punti abilità uh questo dai che ce mi dai colpi del crown si io quasi quasi mi prendo la bomb lens eh qua sopra dove sono io guarda c'è una scelta qui sotto c'è la c'è la c'è la anche qua sotto questo ok luto quello sto qua che ci sono ok visto o è un singolo col cecchino perché ne ho visti solo tipo uno paio a sud uno o due a sud sono senti le papere dov'è quello morto qui? qua occhio accucciati dietro il cannone per lutarlo perché non vorrei che sta mirando aspetta devo ancora lutarlo anch'io non lo vedo si è allontanato si è allontanato questo o sono all'altro o è un team che è all'altro boss che stanno andando a mattoni si mi sparano questo c'è il fucile nuovo si sparano da mattoni questo c'è il fucile nuovo ma lo devo prendere guardatemelo si è allontanato si è allontanato si è allontanato si è allontanato ma qua non vedo cure ma devo far sapere la macchiatta giù di sotto qua c'è una cura guarda bomba allora raga questo ci sparava dal ponte di mattoni quindi io non gli andrei in bocca dritto per dritto comunque era mattoni o facciamo il giro d'armamentario oppure ci infiliamo nei boschi oppure ci infiliamo a sinistra di mattoni nei boschi e da lì ci avviciniamo alle pruna che magari abbiamo un po' più di protezione o no no occhio perchè sparava con uno sprinting potrebbe avere il marksman io c'ho 4 secondi adesso magari quando ci avviciniamo un po' fatti il video io andrò a 5 e faccio io se no inizioni sono andiamo sotto copertura e... ok 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 cazzo il fucile nuovo ho lasciato tutto vabbè vabbè per cazzo ci abbiamo lo ritroverei eh io da sta zona un'occhiata la darei manca solo sto team qua quindi se lo uccidiamo adesso lo faccio un giro eh ma quel fucile nuovo è col dlc? no l'ho complito i bonbon allora ragazzi ce n'è uno lontanino a 2,55 l'altro che ho visto è qua porca troia minchia madonna mi è passato uno solo? granata occhio via 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 due uno è quello lì uno è fuori però verso ovest ce n'abbiamo due qua raga ce n'è due qua ecco ho sparato flashato flashato uno flashato uno raga nooo eh ma devi aspettare che ci siamo vicini come faccio a pusharlo da qua eh uh via madonna c'è uno che uno mi vuol pushare a me sta fuorendo dietro il ciccione ragazzi un attimo vai 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 tranquillo l'ho ucciso mi hai dato un tratto recente no vedi vivo ma può che fare scusa morto uno c'è uno qui da me uno qui ok aspetta uno viene verso di me stanno entrando dei zombie è entrato è entrato uno è entrato dentro casa il cadavere è qua quindi quanti sono rimasti? due sono in due vieni a lutarlo ok faccio un giro stanno facendo gli zombie guarda un po' si 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 sono tutti dentro ok circondiamo questo accompagnano lì se vuoi si brucialo aspetta cerco una lanterna però eh è lì mi sa aspetta ci faccio un po' di copertura ci sei del lì? eh un attimo raga devo bruciarlo eh non bruciarlo intanto lo bruciamo eh devo cercare una lanterna morto uno morto uno morto eh ci lascia qualcosa o è sotto è sotto è sotto è sotto vai giù bravo bravo grazie eh di avermi lasciato la macchina almeno arrati orco dio che avrei fatto 9 kill ne ho fatte 5 arcangelo ma ce l'ho io Gabriele bello lo springfield se vuoi Diego adesso che noi gli andiamo a cercare l'altro boss fatti se vuoi vatti a prendere l'arma si si io l'ho lootato già soldi io l'ho lootati tutti è ha